Una folla per l'addio a Ivo Tegani, il funerale a Ceregnano. Il sagrato della chiesa parrocchiale di Ceregnano era gremito questa mattina per l'ultimo saluto all'ex consigliere comunale Ivo Tegani, scomparso prematuramente mercoledì scorso a soli 67 anni. Tantissimi amici e conoscenti di Ivo hanno scelto di restare sotto il sole pattente fino alla fine delle esequie per poter manifestare il proprio cordoglio alla moglie Laura, alle figlie e alla famiglia prima che il corteo proseguisse verso il giardino della cremazione di Copparo. Il parroco di Ceregnano, Don Piero Mandrussato, sull'altare a ricolmo di massi di fiori, ha ricordato con affetto e partecipazione Ivo Tegani, persona molto attiva nella comunità, spesso portavoce dei concittadini nelle questioni che hanno scosso il paese a partire dai temi ambientali. Consigliere comunale fino al 2011 a manifestare il cordoglio dell'amministrazione comunale alle esequie era presente anche il sindaco Ivan Dallara. Durante la cerimonia sono intervenuti alcuni amici di Ivo Tegani che hanno voluto esprimere il proprio commosso saluto. Non è un addio ma un arrivederci, parole suggellate da uno scrosciante applauso che ha accompagnato il feretro verso l'uscita dove in tanti lo attendevano per l'ultimo saluto stringendosi in un abbraccio alla famiglia.